Assessore Rogero, prosegue questo connubio con Cervo, con la Riviera dei Libri, un altro appuntamento domani ad Imperia. Sì, domani al Museo Navale di Imperia, nell'auditorium, che ormai è diventato luogo di tante iniziative e un punto di ritrovo per la cultura imperiesa, alle ore 17 sarà con noi Stefano Perotti, che è scrittore marinaio, quindi non poteva che trovare location migliore che quella del Museo Navale per parlare del suo nuovo libro. E non poteva anche trovare migliore assistenza dal nostro istituto aeronautico, Luca Moncian, che sarà presente per parlare di questo Atlante delle isole del Mediterraneo. Esatto, Atlante delle isole del Mediterraneo è un libro in cui si narrano le storie legate a 42 isole del Mediterraneo. Il Mediterraneo è del Mar Nero e il Mar di Marmara, che lui considera un unico mare. Direi che è un libro un pochettino particolare, anche per quello che è le precedenti pubblicazioni di questo scrittore, in quanto lo scrittore è un personaggio veramente molto 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 interessante, ha scritto anche degli altri libri, romanzi, ma anche dei saggi particolarmente interessanti, perché ha un profilo di vita particolarmente particolare. Non ci deve ingannare allora il nome Atlante, non è un Atlante geografico, è un libro, un romanzo intenso. In effetti no, non dobbiamo pensare che sia come io ho pensato nel momento in cui mi hanno proposto di fare questa presentazione, che sia un libro prettamente tecnico, un libro che non descrive le isole, narra le storie, delle storie legate a queste isole, ma io penso che siano storie, ma glielo vorrò chiedere, storie che nascono puramente dalla sua fantasia e dalle sensazioni che lui ha percepito visitando queste isole. Insomma, l'esempio di come il mare possa offrire tanti tanti spunti e essere anche spazio di cultura. Assolutamente sì, è stato spazio di cultura fin da novembre questo Museo Navale, con la rassegna alterare e con il Teatro del Mare. E poi è un luogo che permette di scoprire le radici della nostra civiltà, della nostra cultura, che è prettamente marinaresca, partendo da sottoterra con la Sala dei Doglia, fino ad arrivare, ci auguriamo presto, alle stelle tramite il Planetario. Grazie a tutti.